Secondo tiro dalla bandierina, parte il pallone in mezzo, poi Pasculli alla meglio, può servire, ma non ce la fa, non deve ci servire tritta, è fuori gioco, anzi no, non è fuori gioco perché c'è un giocatore ed è bravissimo, Cannarozzi, che merita gli applausi di tutti. Grandissimo veramente il gesto che ha fatto Cannarozzi al quattordicesimo, che avrebbe potuto insaccare a porta libera e invece ha mandato il pallone sul fondo.